Nell'ultimo test prima dell'esordio in Coppa Italia con la Triestina, lo stadio adriatico, i ragazzi di Zenec Zeman hanno superato questo pomeriggio allo stadio degli Angeli di Palena, la primavera di Massimo Epifani con il risultato di 7-0 grazie ad una doppietta di Pettinari e dalle reti di Nicastro, Memusciai, Zampano, Perrotta e Capone. Fra le note rilevanti della sgambata con i baby biancazzurri, l'esordio in gara ufficiale con il Pescara del 17enne centrale uruguaiano Elizalde, arrivato dalla formazione del Wanderers Montevideo e su cui avrebbero messo gli occhi alcune formazioni di Serie A. Nel caldo tropicale del comunale di Palena, Crescenzi e compagni hanno dovuto faticare parecchio per il gran caldo e per i pesanti carichi di lavoro di tre settimane di preparazione. Discreta nel complesso la prova del Pescara al cospetto di una primavera rinforzata nell'undici iniziale da Delli Carri e Del Sole e ben messa in campo da Massimo Epifani. Un'ora di gara per il centrocampista Scuola Inter Marco Carraro.